Ben ritrovati amici di Globus Television, io sono Alessio Nicotra, vedete alle mie spalle il cartonato della sala conferenza di Torre del Grifo. Oggi ha parlato Pietro Lomonaco, questa settimana ha toccato al direttore a incontrare la stampa, ha parlato della situazione legata a Lucas Castro che ha portato al Catania quei famosi sei punti penalizzazione. Come sapete nei giorni scorsi c'è stata la nuova reclama relativa alla FIFA, ha parlato del momento del Catania, ha parlato della situazione di mister Pino Rigoli, ha parlato di quella che sarà Catania e Messina ore 20.30 a stadio Angelo Massimino domenica prossima. Vediamo le parole del direttore Pietro Lomonaco, continuate a seguirci ovviamente sulla pagina Calcionate, i commenti di Casa Rosso Azzurra e su Calcionate il programma di Globus Television. Sare venuti, come al solito una precisazione ve la debbo, voi li avete vissuti tante volte questi momenti, non è assolutamente una settimana di silenzio stampa perché sto qua, sto a parlare io. Il silenzio stampa non esiste perché il silenzio stampa non ha mai motivo di esistere, è solamente una settimana in cui si preferisce che la squadra si concentri esclusivamente sulla gara e noi non facciamo mancare il nostro servizio nei confronti della carta stampata, dei media in generale e siamo qua per rispondere a tutte quelle che sono le vostre domande, i vostri dubbi, le vostre perplessità. Il direttore Alessio Nicotra a Globus Television, a proposito di questo, ha fatto una campagna acquisti molto ampia, sono arrivati tanti giocatori, molti li conoscevamo già, non li scopriamo di certa ora, molte erano scommesse, lei si è detto subito soddisfatto comunque conclusa la campagna di trasferimenti, anche il mister Pino Rigoli era molto contento. Nello specifico, in queste prime uscite di campionato, qual è il giocatore, ovviamente escludiamo magari i biaggianti, i paulucci che erano già nomi ben noti, qual è quello che l'ha colpita più in positivo e su cui crede in particolar modo per questo continuo di stagione? E poi un grande dirigente diceva che la grande società inizia a fare mercato per gennaio, a settembre e a febbraio, per giugno. Il Catania già è proiettato al mercato di gennaio per coprire i buchi che si stanno vedendo? Allora, io per natura mia sono sempre piacevolmente sorpreso quando un giovane si impone, un giovane soprattutto perché magari, sa come Paperon dei Paperoni che gli uscivano le cose negli occhi, i soldi negli occhi, i dollari, no? Perché un giovane è patrimonio della società, perché un giovane che fa bene e si impone significa che puoi fare mercato, quindi io penso che il Catania abbia dei buoni giovani. Ecco, se proprio devo dire, mi aspetto molto dalla crescita di questi nostri giovani, i Di Grazia, i Barisic, i Parisi, devo dire anche quelli che sono fornito stesso. Ci sono anche altri che stiamo aspettando, perché per esempio Pier Marteri è un giocatore estremamente interessante, non si allenava da un anno e mezzo, sta lavorando, a breve entrerà anche lui nell'organico. Abbiamo fuori qualche altro ragazzo, tipo Sessa, De Rossi. Penso che il Catania abbia fatto una campagna di acquisti con la testa, perché ha tanti giocatori giovani che sono patrimonio del Catania. Significa che hanno contratti pluriennali, non abbiamo gente in scadenza, sono evidentemente quelli andati un po' avanti negli anni, che devono essere un po' assatura in questo momento. Se già state iniziando a pensare? Lo senza dubbio. Se io dico che dobbiamo completare l'opera, dico tutto. Vuol dire che non è il prodotto finale. Il prodotto finale è un altro. Non abbiamo avuto il tempo. Non abbiamo avuto il tempo, perché per dar via a giocatori che costano tanto, devi avere il tempo. E allora, quindi, non è il prodotto finale. Su questo siamo, potete dare sicuro che a breve sia pure qualche altra novità, subito, subito, pronti via. Noi non lasciamo niente di intentato. Su questo è chiaro. Noi vogliamo essere competitivi. Noi vogliamo cercare in tutti i modi di rompere questa catena maledetta degli ultimi quattro anni. E questo lo possiamo fare solo in una maniera. Risanando e ripartendo. Prossima giornata. Si ritorna in casa dopo la sconfitta con l'Agragas e il pareggio con il Fondi. Che accoglienza si aspetta da parte del pubblico catanese? Si aspetta un massimino pieno, soprattutto perché è una partita che comunque è sentita, diciamo, per i tifosi, anche se lei non l'ha definita derby. Che risposta si aspetta invece dalla squadra? Io dalla squadra mi aspetto che continui il processo di miglioramento fatto intravedere in queste ultime paie di partite, nonostante magari il risultato non ci ha sorriso. Però per quanto concerne la gente, e questo è il risaputo, se fai i risultati la gente si rincuora e si sente più trasportata. Al di là dell'amore naturale che la gente di Catania apre la propria squadra, direi che in questo primo scorcio di campionato una spinta maggiore sarebbe stata auspicabile. Cosa che non c'è ancora stata, quindi se non dovessimo avere lo stadio pieno non mi sentirei assolutamente di buttare la croce addosso a nessuno. Siamo noi che dobbiamo portare la gente al campo con le prestazioni. Per quanto riguarda invece uno dei protagonisti di queste settimane, Andrea Di Grazia, io la sento dalla tribuna stampa a chiamarlo il ragazzino, passala al ragazzino, dalla ragazzino. È uno dei protagonisti anche perché la sostituzione con l'Agragas ha portato anche i fischi, e il pubblico che voleva vederlo ancora in campo. È uno dei fattori del Catania, può rappresentare uno degli uomini in più del Catania? È un patrimonio, come definisce lei, il giovane del Catania per la squadra rossa-azzurra? Assolutamente sì. Io penso che sia uno dei, al di là del fatto che ha un'età giusta, è un 96, è il più giovane della compagnia dopo De Santis. Diciamo che è un giocatore che ha delle potenzialità da A, e dico anche che l'evoluzione sua non è tanto nel tridente d'attacco, ma nel triangolo di centro campo. Io gliel'ho detto al ragazzino, parlo spesso, intravedo un po', seppur con caratteristiche diverse, intravedo un po' la storia di Caserta quando è venuto qua. Quindi lui è un giovane che viene dal nostro vivaio, cresciuto nel nostro vivaio e se mantiene i piedi ben piantati per terra e continua a migliorare, come ci aspettiamo, sicuramente può prendersi delle soddisfazioni importanti e darle anche alla città di Catania, perché è un catanese. Domenica non dimentichiamo che avevamo in campo tre ragazzi provenienti dal nostro settore giovanile. Quindi questo non ha rimarcato nessuno, avevamo Bucolo che viene dal nostro settore giovanile, di Grazia e Parisi. Quindi questo è un dato di fatto che si sposa perfettamente con quella parolina magima che significa programmazione.